Un discorso consapevole, un discorso, diciamo, agguerrito e molto moderno, no? Molto, molto legato alla rivoluzione delle cose, dei tempi, deciso e quindi... E alla parola cacicchi, lotta ai capi bastoni e cacicchi? Si può darle torto, non so. Ma ce la farà? Ma ce la farà, ce la farà, ce la farà, sì. Grazie per il salve. Sui migranti il governo sta sbagliando strada secondo me? Nessuno ha ricette giuste, la ricette giusta è difficile, ma almeno evitare quelle palesemente sbagliate. Ecco, si chiederebbe solo questo, evitare quelle palesemente sbagliate. Ma i flussi li vuoi regolare così? Ma vuoi che un imprenditore prenda su uno dalla Tunisia senza sapere chi è, senza sapere neanche il nome e cognome? No, prenderà uno irregolare, lo mandi in Tunisia due mesi, poi lo riprende. E' una regolarizzazione, ma allora falla con la stazione dei carabinieri lì, fa dei flussi seri, poi adesso mi cancelli la protezione straordinaria, cioè gente che si sta incanalando in un mestiere, nell'imparare la lingua. Me li butti di nuovo sulla strada, ne fai ancora dei clandestini, per tacere delle emergenze. E' chiaro che bisogna chiedere all'Europa, ma cosa gli chiedi all'Europa? Per attaccare gli scaffisti. Ma gli scaffisti, quelli lì che guidano, sono dei disgraziati che semplicemente non gli fanno pagare il viaggio. Allora quando ci mandiamo all'esercito in Libia, cosa vogliamo fare? Allora all'Europa devi chiedergli aiuto, sì, dicendole guarda che lo so anch'io che ne prendi tu più di noi, perché è così. Però vedi, quelli che prendi tu vengono per terra, soffrono, quelli da noi vengono per mare, muoiono. Tu devi darci una mano a una ricerca e soccorso nel Mediterraneo, fatta seriamente. E dopodiché ce ne prenderemo, organizzeremo meglio i primi soccorsi, la prima accoglienza. A quel punto l'Europa deve sentirsi chiamata a una logica umanitaria, non a una logica di ripartizione o di guerra agli scaffisti. Ma voi che non ci hanno d'accordo che gli scaffisti, quelli che organizzano la data, sono dei delinquenti? Ma per l'amor di Dio. Oggi c'è stato anche un vertice a Palazzo Ghigi con i servizi segreti. Guardi, noi abbiamo, con queste ricette qui di cui abbiamo discusso, abbiamo avuto a febbraio il record degli sbarchi da sempre. Non c'è bisogno dei servizi segreti per sapere, perché lo sa chiunque, che di là ci sono decine di migliaia di persone che cercano di venire di qua. Ecco, quindi, intanto che abbiamo la ricetta, che inventiamo una ricetta giusta, abbandoniamo quella sbagliata e usiamo umanità e razionalità. non propaganda, basta propaganda sulla pelle dei poverazzi, basta avere cavalli di battaglia, perché i cavalli di battaglia possono anche disarcionarti. Bisogna che la destra lo capisca, perché questa è una questione troppo grossa per usarla in termini di propaganda. Grazie per te. Grazie mille.